Allora Marco Sì oggi per me è una grandissima vittoria perché come avevo detto ieri Potito per me è sempre stato un giocatore da prendere come esempio Mi è sempre piaciuto come gioco e quindi aver vinto oggi è stata una grande emozione per me perché ci avevo già giocato due settimane fa e l'avevo battuto Oggi era difficile, sensazioni diverse, ho giocato un ottimo match e sono davvero contento Adesso avrai Matedelic, lo conosci abbastanza e sta asfaltando tutti Sì, lo conosco abbastanza visto che ci alleniamo insieme, siamo abbastanza amici, ci conosciamo tutte e due Quindi sarà un match sicuramente difficile dove ci sarà tanta tensione e secondo me si giocherà su pochi punti Va bene, un bocca al lupo Grazie, grazie